Ciao, sono Paolo Balci e vi presento questo Knauss Boxstar 540, un mezzo compatto, una vera automobile abitativa. Cliccate sulla vostra destra in alto che si aprirà la scheda di questo camper del nostro sito dove vedrete tutti gli optional compresi il prezzo di listino e soprattutto il prezzo chiave in mano. Poi iscrivetevi al nostro canale YouTube e cliccate la campanella. Andiamo al suo interno. Qua la porta zanzariera e qua la zona giorno. Una zona giorno molto comoda e funzionale che qui agganciata porta il tavolo, se no sotto c'è l'altro gancio che permette di fare il letto singolo davanti, quindi è un tre comodo. Sotto la prolunga che permette a chi sta nel sedile passeggero di avere un piano d'appoggio e così uno, due, tre, quattro persone. Qui sopra un pensile. Qua sopra uno spazio contenitore. Qua il letto a soffietto con anche l'oblò. Questa è la versione con il letto a soffietto alto aperto. La cucina, un piano d'appoggio, il lavello e due fuochi. Dei bei contenitori veramente profondi. Frigorifero che si apre sul davanti nel tavolo con il suo congelatore. Oppure se avete sete la sera siete a letto. In questa altra versione si apre. Poi i vari cassettiere. Una, due e tre. Questo campo è di particolarità ha il cambio automatico. Quindi è una vera automobile piccola, molto abitativa per quattro, con cambio automatico. È veramente piacevolissimo poterci andare in giro. Posteriormente due bei pensili e gli altri due qua. Con le due un bel contenitore qui e le due finestre apribili. Qua l'armadio. Il bagno. Il bagno. Eccomi qua. Questa è la seduta. C'ha la sua finestra. Poi vari contenitori come vedete qui sotto. Poi un altro contenitore qua. E poi lo scorrevole con i suoi spazi. Guardate come è semplice. Lavandino. E un bel contenitore. Per fare la doccia. Eccomi. Così qui c'è l'appoggio per la doccia. E qui c'è anche il porta abiti nel caso di avere cose bagnate. Se andate in montagna o dopo una giornata di pioggia per poterle asciugare in bagno. Questo è un bel letto matrimoniale. Come vedete ci sto veramente bene. Illuminato con le due luci. L'oblò. Ma soprattutto un enorme intorno spazio proprio visibile che ora vedete questa struttura. La nostra struttura. Ma immaginatevi di essere in un posto in collina al mare. Cosa vedete? Questo camper può essere sfruttato. Mettete di dormire in due qui sopra e al posto del letto avere un grande contenitore per metterci le biciclette o quant'altro. Oppure per le quattro persone. Qua i vari contenitori e l'USB c'è tante attenzioni proprio di funzionalità che è la cosa che proprio caratterizza la Knauss. Questo è la protezione per i bambini. E questo è il suo garage. Qui sotto le dimensioni dell'ingombro di questo garage. Le due finestre posteriori e anche queste che sono molto carini e funzionali sia qui. Qua la batteria di servizio e qui un bel contenitore. Quindi un camper se volete un'automobile. Cambio automatico. Potente. quattro posti. Due posti con un grande garage a tutto questo camper. Quindi veniteci a trovare. Chiedete della nostra consulenza perché vi possiamo offrire la nostra esperienza per potervi far acquistare il camper adatto a voi e alle vostre vacanze. E come sempre agli ottimi prezzi e servizi caravambaccio. Ciao!